Oggi è la festa della misericordia del Padre, una festa che ci invita a gioire della salvezza che Dio Padre ci offre attraverso il suo figlio Gesù. La parabola del Padre misericordioso è la più sconvolgente del Vangelo, soprattutto se riletta alla luce della nostra società così avara nel perdonare e nell'accogliere i più deboli. In quale dei due fratelli ritroviamo le impronte delle nostre ferite? A quale dei due possiamo paragonarci? Ciascuno risponda per sé stesso. È importante però sentire l'amore misericordioso che Dio Padre riversa su di noi. L'unica cosa che resta è ritornare tra le sue braccia amorose. Hai mai dubitato del perdono misericordioso di Dio? Sei mai stato tu il Padre misericordioso per qualcuno?